La Libreria Editrice Vaticana, anche quest'anno, va alla Fiera del Libro di Francoforte, come tradizione, con un duplice obiettivo. Da un lato vogliamo proporre ai nostri partner internazionali la produzione della nostra Casa Editrice, cioè la promozione delle parole del Santo Padre, che sono così piene di speranza, di bene per tutti gli uomini, affinché queste parole possano risuonare in tutte le lingue del mondo. Allo stesso tempo poi incontriamo i nostri partner, perché da loro vogliamo ricevere quelle parole significative pronunciate nella Chiesa, dalla Chiesa, nelle parti più recondite del mondo, affinché anche quelle parole possano diventare nutrimento per tutta la cristianità, dal momento che risuonano qui, al centro della cristianità, che è Roma.